Una stretta di mano tra il Presidente Vicario del Parlamento Europeo, Gianni Pittella, e il Presidente della Mostra d'Oltremale, Nando Morra, in un incontro per spiegare i programmi di sviluppo in corso e da realizzare per il Forum delle Culture e per il World Urban Forum. Durante la conferenza stampa, svoltasi alla Mostra d'Oltremale, Nando Morra ha illustrato all'istituzione europea l'organizzazione in atto sull'evento tanto atteso. Inoltre, la sede è stata anche l'occasione per ulteriori chiarimenti da parte di Pittella sui programmi POR 2007-2013 per l'utilizzo dei fondi europei. Noi mettiamo a disposizione gli strumenti per fare le politiche necessarie per rilanciare il nostro mezzogiorno e soprattutto per collocare questo rilancio nell'ambito del Mediterraneo. Quale realtà migliore della Mostra d'Oltremale può interpretare questo ruolo? Io credo che proprio questa realtà sia il soggetto, il protagonista ideale per rilanciare questa scommessa del mezzogiorno nel Mediterraneo. Noi stiamo commettendo un grave errore, quello di sottovalutare la primavera del Mediterraneo. Oggi il Presidente Napolitano ci ha ricordato questo vento che è partito e che noi dobbiamo sapere anche aiutare, convogliare, perché dobbiamo sapere aiutare la costruzione di una democrazia nel Mediterraneo e noi del mezzogiorno siamo i più interessati perché possiamo svolgere attività di cooperazione culturale, piuttosto che economica, piuttosto che sociale. Un attore di questo contesto, di questo lavoro è la Mostra d'Oltremale. Uno dei grandi progetti da portare in Europa riguarda la Mostra d'Oltremare, definito e delineato come un centro di riferimento fondamentale per congressi, esposizioni fieristiche e attività moltiplici. Questo significa cogliere un'opportunità per fare di Mostra d'Oltremare un motore dello sviluppo della Campania. Grazie. Grazie. Grazie.